Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere come preparare un frullato al lampone davvero delizioso. Vediamo insieme che cosa vi occorrerà per prepararlo. Lamponi vanno bene freschi o anche surgelati. Una banana bella natura. Del miele, eventualmente dell'acqua per diluire. Grazie a tutti! Come avete visto, questo frullato si prepara in pochissimi secondi ed è davvero strepitoso. Grazie al lampone è ricco di vitamine e soprattutto è un potentissimo antiossidante. Vi consiglio di provarlo e soprattutto di farmi sapere se vi è piaciuto.